Buon pomeriggio, bentrovati per questa nuova puntata di Informa Salute. Siamo in diretta, come ogni mercoledì, se ci state seguendo proprio di mercoledì sono le 14 in punto. Vi svelo subito l'argomento di questa puntata, parleremo di riabilitazione e in particolare di una metodica, la manovra Grimaldi, appunto per la riabilitazione. Vi presento gli ospiti di questa puntata, oggi ho addirittura due specialisti, il professor Paolo Lippi, fisioterapista, responsabile dell'unità operativa di riabilitazione funzionale dell'azienda sanitaria Toscana Centro per la zona della Val di Nievole. Buonasera professore, perché oltre a questo è anche direttore delle attività formative per quanto riguarda la fisioterapia all'Università di Firenze, nella sezione di Pistoia. E poi la dottoressa Daniela Melchiorre, reumatologa, buonasera dottoressa, ma in particolare oggi è qui anche come presidente della società medico-chirurgica lucchese. Avete tanti titoli, io cerco di non dimenticarmene, poi oggi cercherò di accorciare chiamandovi professore, dottoressa. No, no, va benissimo. Va bene? Ok. Dunque vi ricordo che se avete qualche domanda, l'argomento è interessante direttamente sulla manovra Grimaldi o in generale sulla riabilitazione, approfittiamo della presenza del professor Lippi, potete inviarci un sms o un messaggio whatsapp al 360-1038-330. Partiamo proprio dal professor Lippi. Che cos'è questa manovra Grimaldi? Io sono sincero, riabilitazione non ho mai avuto bisogno di farla e ho studiato grazie anche agli appunti che mi ha inviato la dottoressa Melchiorre, però magari molti che ci stanno guardando non lo sanno. Che cos'è? Ma basta andare su internet e si trova subito qualche informazione al riguardo. Direi che la manovra è una procedura abbastanza semplice nella sua realizzazione che permette di far lavorare in modo diverso le strutture, i muscoli. I muscoli sono coordinati e gestiti dal sistema nervoso centrale. Questa manovra permette, lavorando sui muscoli, di far cambiare la coordinazione a livello di sistema nervoso centrale. Il meccanismo di azione è abbastanza semplice, i muscoli devono essere stirati, mentre una forza di stira li portiamo gradualmente in accorciamento. Questo aiuta a un cambiamento della coordinazione motoria. Poi entreremo nel dettaglio. Questa manovra è stata in qualche maniera rivoluzionaria? Possiamo definirla così? Perché? Direi di sì, perché innanzitutto i tempi di azione, quindi di verifica del suo effetto, sono piuttosto brevi. Quindi può andare a buon fine oppure no, al limite il paziente rimane come prima. Quindi non ha di fatto una controindicazione. Naturalmente la manovra deve essere applicata in condizioni di assoluta sicurezza, sia per il paziente, per la persona, sia per l'operatore che la sta attuando. Perché vengono utilizzate delle forze esterne, delle molle, dei sussidi, dei dispositivi. Bisogna far uscillare l'arto in una certa modalità e questo deve essere allestito un setting specifico per ogni esercizio, per ogni gruppo muscolare sul quale si intende lavorare. E anche per questo ci sono dei corsi specifici e ne parleremo proprio per questo motivo. Sono incuriosito, vorrei capire bene come funziona, se vale per tutti i problemi che uno può avere. Però mi incuriosisce anche il nome, la manovra o metodica Grimaldi. Prende il nome da un dottore, dottoressa, è da dottor Luigi Grimaldi. Assolutamente sì. Il dottor Luigi Grimaldi è stato un ricercatore ed è rimasto per noi tale. Ha lavorato all'Università di Pisa perché era un neurologo e è scomparso prematuramente lasciando noi un po' così. Dico noi perché anche io faccio parte dell'associazione Grimaldi che abbiamo costituito dopo la sua scomparsa prematura. Il dottor Grimaldi poi da Pisa si trasferì a Barga e lì ha potuto realizzare, mettere in pratica tutto ciò che aveva pensato, collaborando per l'appunto anche con Paolo Lippi, che è stato uno dei suoi collaboratori più vicini, più anche fedeli, anche da un certo punto di vista perché il percorso è stato comune. Io come reumatologa l'ho conosciuto in un secondo momento e ne ho apprezzato naturalmente tutte le capacità e abbiamo cominciato anche proprio a cercare insieme di trovare una strada per dare voce al metodo da un punto di vista scientifico. Il dottor Grimaldi quando è scomparso? Nel 2009, è stato primario di Barga fino a quell'epoca. Ok, e la manovra a che tempi risale? È stato anche docente del corso di laurea in fisioterapia della sezione di Pistoia, quindi di Firenze. Soprattutto a Firenze, si è insegnato per molti anni a Firenze, sia nella laurea di primo livello che nella laurea specialistica, cioè il secondo livello, cioè la laurea della scienza e delle professioni sanitarie. Sì, mi scusi dottoressa. No, giusto per così, concludo questo perché giustamente è stato a Firenze e il presidente dell'associazione Grimaldi attuale è il professor Giulio Masotti ed è grazie a lui che il dottor Grimaldi poi entrò nel corpo docente. Nel corpo di laurea, sì. E proprio il professor Masotti ama definirlo un ricercatore perché è stato veramente antesignano di tante realtà che noi adesso poi nel corso della trasmissione cercheremo anche di spiegare. In questa puntata cercheremo di alternare la spiegazione di come funziona per chi adatta la manovra Grimaldi ma daremo anche qualche indicazione sulla storia dell'associazione, sull'attività che porta avanti, su ciò che l'associazione Amici del Cuore, con la quale realizziamo questa trasmissione, sta facendo proprio per mettere a disposizione di tante persone la manovra Grimaldi e allo stesso tempo anche per formare gli operatori. Perché, come diceva il professore, non è così semplice, no? Non tutti si possono, non tutti dico gli specialisti, comunque improvvisare nel fare questa manovra. Ho visto che in pratica, in maniera più estesa, si definisce accorciamento muscolare con sollecitazione di trazione, dottore. Bene, sì. È una sigla abbastanza sintetica che descrive un processo dinamico al quale va incontro il muscolo. I muscoli si comportano come delle strisce di gomma e sono costituite, diciamo, da sottili fibre, grandi, per questo modo, come capelli, più sottili ancora dei capelli, e questa combinazione di azioni di muscoli ci permette di realizzare tutto quello che noi realizziamo nella vita, tutti i movimenti e tutto quello che noi facciamo, attraverso, ovviamente, una combinazione che si chiamano sinergie, cioè non è che si lavora con un solo muscolo, non esiste un movimento realizzato da un solo muscolo, ma sono gruppi di muscoli che lavorano insieme, in sinergia. Come diceva Bernstein, questa è da una parte una fortuna, dall'altra anche una maledizione, perché va bene perché ci permette di realizzare i nostri scopi comportamentali, cioè di fare quello che vogliamo fare, in qualsiasi condizione. Purtroppo ce lo fa fare anche quando poi si fa un danno al muscolo stesso, quando si stira troppo, si allunga troppo, oppure si stressa in modo eccessivo, e quindi la zona di passaggio dalla parte più delicata al muscolo, quella parte scorrevole, che si accorcia da quella tendina che è fibrosa, molto spesso va incontro a processi di infiammatoria, prende il nome di entesopatia, ecco, di sofferenze muscolari. Quindi, ecco, il poter realizzare i movimenti come noi vogliamo è una bella fortuna, ma anche ha un aspetto delicato che va fatto in modo appropriato. Questo permette di farlo per lungo tempo, per tanto tempo, senza subire danni. Io ho sempre sentito parlare, quando si parlava di riabilitazione, di massaggi, di altre forme di, non so, tecniche, no? Sì, sì. La manovra per quale tipo di patologie è adatta? Perché io ho letto negli appunti che mi ha mandato la dottoressa Melchiorre che fra le applicazioni che hanno fatto capire che la manovra funzionava, c'è stata proprio quella per le persone colpite da ictus, che hanno bisogno di recuperare, ovviamente, il movimento. Certo. Ma il punto di partenza è stato proprio osservare nei pazienti con ictus un cambiamento, un cambiamento nel comportamento motore in tempi abbastanza rapidi. Questa osservazione non era perfettamente in linea con la teoria dominante di allora, che era la teoria cognitivista, cioè il cervello che si comporta come un computer, cioè il magazzinamento e il recupero di informazioni. Quindi si fa il movimento perché l'abbiamo nel cervello da qualche parte. Andare a ripescare quella traiettoria, quel programma, richiederebbe dei tempi estremamente infiniti, perché facciamo sempre movimenti diversi, mai uguali. Quindi questa teoria, sono le due grandi scuole di pensiero che attualmente invado, cioè sono presenti nel mondo scientifico, si tratta della teoria cognitivista e della teoria ecologica. Due punti di vista abbastanza contrapposti. Una assimila il cervello a un computer, a un elaboratore di informazioni, e l'altra invece parte dal presupposto che le informazioni che noi riceviamo sono già di per sé sufficienti, descrivono già l'ambiente e queste ci permettono già di vincolarci e quindi di organizzare una risposta per raggiungere i nostri scopi comportamentali in modo appropriato. Quindi per riuscire a fare ciò che vogliamo fare attraverso la combinazione muscolare. C'è tantissima letteratura nel corso degli anni. Noi seguiamo la letteratura da oltre 50 anni e dalla sconfarsa di Luigi Grimaldi noi abbiamo continuato a lavorare in questa direzione. Diciamo che questo principio di accorciamento e sollecitazione di trazione esiste ed esisteva indipendentemente dal fatto che noi lo scoprissimo o meno, che il dottor Grimaldi si accorgesse che questo fatto avveniva o meno. È stato studiando questa strana manovra terapeutica vedere che questi cambiamenti improvvisi repentini non erano giustificabili con la teoria cognitivista. Io ho recuperato su internet appunto questa foto, mi avete detto che va bene, no? Qui vediamo una persona, diciamo quella di sinistra, che c'è un disegno, una ricostruzione. Vediamo una persona con una gamba stesa, no? In quel caso, cioè, quindi cosa viene fatto? Io banalizzo, ma chi ci sta guardando deve capirlo, no? E non ha delle basi scientifiche. Ma questo è un esercizio abbastanza semplice, molto studiato dal Dognocchi di Milano. Cioè è stata fatta anche una pubblicazione che è andata su Neural Rehabilitation, Neural Repair, quindi su una rivista impattata, quindi molto autorevole, con la quale, cioè, questo studio ha permesso di vedere che le persone con sclerosi multipla potevano ottenere dei benefici sulla stabilità del bacino attuando questo tipo di esercizio. Questo tipo di esercizio che cosa fa? Non fa altro che mandare il muscolo, il medio gluteo, il grande, il muscolo sul quale è diretto, un muscolo stabilizzatore del bacino, in accorciamento, mentre una forza interna, una forza tende a stirarla. Ecco, la direzione della freccia indica proprio che c'è una forza che tende a stirare questo muscolo. Quindi due forze, diciamo così, che si... Sì, sono, diciamo, due forze apparentemente opposte, ma non è proprio così, perché il muscolo si comporta come una striscia di gomma, abbiamo detto, una striscia di gomma la cui lunghezza è regolata dal sistema nervoso centrale, quindi può entrare in tensione, cioè produrre tensione prima o dopo a seconda di come è regolata dal sistema nervoso centrale. Lei però adesso mi ha parlato, prima abbiamo parlato di persone colpite da ictus e adesso da sclerosi multipla. Questo studio era un po'. Sì, 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 io vorrei capire, per chi ci sta guardando, magari ha avuto dei problemi, non so, alle spalle, alle gambe, eccetera, eccetera, se quale applicazione può avere. Prima di andare in pubblicità, però, volevo ritornare alla dottoressa Melchiorre e all'attività dell'associazione. Una delle prime cose che ha detto il professor Lippi è stata ci vogliono delle persone specializzate per fare questa manovra, lo diciamo, insomma. E uno degli obiettivi dell'associazione di cui lei fa parte è stato proprio quello di formare gli specialisti. Certo. Sì, poi mi piacerebbe anche integrare un aspetto di quanto è stato detto fin qui. Per quanto riguarda l'associazione, l'associazione è nata proprio a tutela della manovra, perché, come abbiamo capito, abbiamo visto un'immagine che non è sicuramente sufficiente per far capire bene che cosa succede a questo nostro corpo, però, chiaramente, è anche dipendente dall'operatore perché c'è un fisioterapista che, in qualche modo, utilizzando le conoscenze che ha, è in grado di mettere a profitto, appunto, a favore del paziente, quella tecnica. E proprio per evitare una eccessiva personalizzazione della manovra, o come pure un'interpretazione che non è sempre corretta, è opportuno che le persone siano adeguatamente formate. Il dottore Grimaldi, in questo senso, non ha potuto formare troppe persone, anche se un certo numero in Italia, ma anche all'estero, perché, per esempio, anche in Germania è nota questo tipo di attività, ma non abbiamo potuto ancora, non abbiamo ancora una rete ben codificata, di tutti coloro che sono gli operatori che la utilizzano. Il nostro corso di perfezionamento, il secondo, appunto, di cui lei accennava prima, diretto dalla professoressa Angela Bagni, con il mio dipartimento, che è il Dipartimento di Medicina Clinica Esperimentale, ha proprio avuto, ha la funzione, insieme all'Università di Pistoia, ha proprio la funzione di preparare questi fisioterapisti, questi professionisti, che poi non sono solo i fisioterapisti, ma appunto sono anche i medici che lo possono frequentare. E l'associazione, per concludere, ha proprio la funzione di tutela, di garante, affinché la manovra non vada né dispersa, perché gli argomenti di cui abbiamo trattato sin qui sono estremamente complessi, e anche per noi fonte di studio e di approfondimento e nel corso poi dei minuti successivi cercheremo di dare qualche indicazione in più. Ci dobbiamo fermare per una breve pausa, poi torniamo insieme, avremo ancora a disposizione circa un quarto d'ora, cercheremo di farcelo bastare, anche se poi invece potremo parlare ancora per molto tempo. A fra poco. Di nuovo insieme, di nuovo in diretta, sono le 14 e 16 minuti di mercoledì 22 marzo, stiamo parlando in questa puntata di Informa Salute della manovra Grimaldi per la riabilitazione, insieme al professor Paolo Lippi e alla dottoressa Daniela Melchiorre. Come sempre, quando siamo in diretta, potete inviare anche le vostre domande, il numero è il 360-1038-330 via sms o whatsapp, c'è un messaggio rivolto al professor Lippi. Volevo chiedere, ci scrive questo amico che si chiama Mario, tre anni fa mi sono fratturato l'omero e ho subito anche un intervento chirurgico. Tutto sommato ho recuperato bene, ho 59 anni, mi consiglia di fare ancora dei cicli di fisioterapia o cos'altro? Chiaramente dipenderà un po' dalla situazione, però magari è rimasto incuriosito da quello che stiamo dicendo. Cioè una volta che uno ha avuto l'operazione e poi è recuperato, è bene ogni tanto fare dei richiami? Beh, il movimento fa sempre comunque bene, va fatto anche in modo appropriato. Quello che non facciamo, che non utilizziamo, tendiamo a perdere. Il cervello tende a dimenticare ciò che non si usa. È un po' come un sentiero in montagna, fin tanto che ci si passa, rimane il sentiero. Anderavamo bambini, facevamo di tutto e poi invece non facciamo di tutto. Esattamente. Purtroppo è così e la nostra vita quotidiana, il lavoro, ci costringe a fare solo determinati movimenti e ad utilizzare solo una parte delle escursioni articolari, delle forze muscolari che potremmo essere in grado potenzialmente di produrre. Questo a lungo andare poi, anche quando insorgono delle patologie tipo mal di schiena, o l'epicondilite, cioè quando c'è l'insorgenza di un dolore, molto spesso la causa di questo precede molto, avviene molto tempo prima. Si è avuta precedentemente una perdita di competenze motorie, si sono usati in modo inappropriato i muscoli e a lungo andare poi avviene che insorge la sintomatologia dolorosa. E si va dal fisioterapista, prima dal medico per una diagnosi, dal fisioterapista per fare poi della fisioterapia, quando è intervenuto il dolore e spesso questo è il motivo che spinge la persona. Invece, ecco, si potrebbe fare qualcosa di più e meglio prevenendo prima di tutto, lavorando in modo appropriato, curando e cercando di recuperare il traiettore di movimento. C'è da dire che non basta lo stretching, non basta il rinforzo muscolare tradizionale, cioè molto spesso si dice ma faccio stretching, faccio rinforzo muscolare. Ecco, è abbastanza difficile che questo sia un modo appropriato. Giustamente la dottoressa Melchiorre dice bisogna comunicare che queste manovre permettono un processo di apprendimento motorio, cioè permettono di realizzare, di fare in modo che i muscoli lavorino in modo diverso, che imparano qualcosa di nuovo con questa manovra, quando va a buon fine. Ed è utilizzabile dal paziente che ha la spasticità, che è un segno molto brutto, molto fastidioso, che impedisce alle persone di muoversi in modo bene, in modo appropriato. È come se una persona si sentisse legata quando ha la spasticità e quindi questi esercizi permettono la riduzione della spasticità. Ora non vogliamo creare delle aspettative inappropriate, però chiaramente si sono dimostrati dei lavori che sono emersi dei lavori che dimostrano che ci stiamo muovendo in questa direzione, cioè si riduce la spasticità. Per questa persona può essere appropriato fare dei movimenti, fare degli esercizi e può essere appropriato anche utilizzare questa manovra. Eventualmente la manovra. Dottoressa. Sì, mi dica tutto. Prima ha detto che voleva fare una piccola integrazione quando parlavamo di movimento. Forse il dottore ha un po' anticipato. Mi ha anticipato e mi ha anticipato bene, nel senso che è proprio quello l'aspetto che caratterizza anche un pochino la velocità con cui la manovra funziona. Perché infatti la domanda volevo farvela. Quanti cicli ma quello poi dipende. Abbiamo fatto dei protocolli. Dipende se, per esempio, se parliamo del dolore di spalla teoricamente potrebbe bastare anche una sola manovra per recuperare. Se si affortuna. Se si affortuna, se il caso è specificatamente bene inquadrato e con quelle caratteristiche. Parliamo della sindrome da impingement dove non ci siano cioè quella sindrome da conflitto dove la spalla praticamente è dolorosa nel movimento che noi facciamo. E può essere dolorosa durante la notte e può essere dolorosa durante il giorno impedendoci appunto di avere un'adeguata funzione. Bene, in questi casi addirittura con una sola manovra ce la possiamo fare a recuperare il movimento corretto e le spiego anche perché. Come se voi riusciste a sbloccare la spalla in quel caso. Assolutamente sì. Noi abbiamo fatto un lavoro che è pubblicato e disponibile e i guidati sono assolutamente reperibili su una rivista internazionale che clinica all'esperimento all'overumatology proprio sulla spalla e il dolore praticamente il movimento della manovra consente alla spalla di ritornare nella posizione originaria quindi neutralizzando quelli che sono diciamo i muscoli antagonisti che tendono invece a portare la spalla in avanti a creare delle disinergie e quindi tutto questo è facile da intuire quando con la manovra riusciamo adeguatamente a far scomparire il dolore il dolore scompare perché scompaiono le cause le cause che lo hanno creato ed è veramente molto molto interessante voi nella vostra attività ora io dico esagero tutti i giorni fate la manovra professore Grimaldi per inquadrare per farlo capire anche ai nostri telespettatori che magari possono chiederle al proprio dottore di fiducia al proprio fisioterapista al proprio reumatologo e quindi magari possono dire ma me lo consiglia in generale quali sono le patologie più che affrontate di più allora dalle patologie neurologiche neurologiche centrali dalle patologie diciamo anche più tradizionalmente ortopediche addirittura anche il mal di schiena le picondiliti il sindrome del tunnel carpale direi che questa manovra è una manovra tipica di riabilitazione di quella riabilitazione con la R maiuscola quella alla prima alla quale ci dovremmo rivolgere prima di andare verso un indirizzo chirurgico un indirizzo diciamo interventistico un pochino più pesante è opportuno fare provare un percorso di riabilitazione perché tra l'altro questo può contribuire anche a perfezionare e migliorare la diagnosi di fronte a una diagnosi ben precisa il percorso riabilitativo è il primo percorso direi quasi naturale non invasivo attraverso il quale si può tentare di risolvere il problema però mi viene spontanea una domanda non tutti i fisioterapisti la sanno fare e forse non tutti la consigliano non solo e se posso non voglio creare come dire dei problemi però magari lei dice almeno il primo tentativo andrebbe fatto con questa manovra perché risolvi molti casi senza intervenire chirurgicamente senza troppi cicli di altri tipi di terapie quindi andrebbe consigliata almeno come tentativo se è adatta non solo ma in questo contesto a Lucca per esempio abbiamo una realtà interessante perché il centro di sanità solidale o amici del cuore ha sempre sostenuto la manovra anche perché poi il nostro presidente conosceva molto bene il dottor Grimaldi quindi ha avuto la possibilità di apprezzarne il valore oltre che i risultati ma siccome non basta soltanto la preparazione del fisioterapista è necessaria anche una strumentazione adeguata per cui è ovvio che bisogna mettere nelle condizioni il sistema di poter funzionare e il centro di sanità solidale lo ha sempre fatto dai tempi in cui eravamo a Maggiano dove io ho potuto fare le prime osservazioni con la fisioterapista che all'epoca collaborava con me fino ad oggi dove al centro di sanità solidale ce ne sono due fisioterapiste che lavorano su questo argomento controindicazioni professore ce ne sono prima forse me l'aveva già fatto capire che forse non ce ne sono no non è che non ce ne siano cioè se uno la fa e non funziona allora innanzitutto in genere si lavora sotto soglia del dolore non si lavora mai superando o facendo in modo che il paziente abbia parecchio dolore oggi moltissimi fisioterapisti conoscono la manovra viene regolarmente insegnata in numerosissime università italiane quindi da Napoli a Milano a Bologna a Modena per non dire Firenze che è un po' la culla di questa manovra che in modo molto laico è una scuola nella quale vengono insegnate tutte le metodiche di riabilitazione poi la singola esperienza dei professionisti permetterà loro di decidere qual è la procedura terapeutica più opportuna per il loro caso chiaramente perché parlavo di riabilitazione con la R maiuscola perché qui ci si rivolge a un recupero di funzione intrinseco cioè non si tratta di andare a individuare degli ausili dei supporti perché oggi c'è moltissima robotica della tecnologia sofisticatissima che va a recuperare determinate funzioni però va a recuperarla ricorrendo a un ausilio esterno a qualcosa di esterno in questo caso la manovra Grimaldi permette di migliorare le competenze motori di incrementare di ridurre il dolore di migliorare le competenze motori facendo ricorso alle risorse intrinseche dell'individuo cioè è una manovra cosiddetta che permette il recupero intrinseco se va a buon fine quando va a buon fine perché non è così facile e quindi è molto diffusa sul territorio nazionale e diciamo che viviamo in un territorio quello toscano dove è stato molto ricco di cultura riabilitativa la cultura riabilitativa è molto diffusa fra i medici fra i professionisti e questo forse tutto questo contribuisce anche all'elevato livello di qualità della vita che abbiamo e anche di invecchiamento della popolazione cioè riusciamo a ci muoviamo molto di più rispetto al passato ci alimentiamo in modo appropriato quindi abbiamo tutto sommato un territorio ricco di cultura anche di cultura della sanità di cultura del movimento che ci aiuta insomma a mantenerci bene per quanto possibile quindi insomma riassumo perché fra l'altro la dottoressa me l'aveva anche sottolineato quindi al di là delle patologie neurologiche abbiamo visto insomma i risultati che il dottor Grimaldi ha visto sulle persone con ictus quindi un'applicazione può essere per i problemi reumatologici per la cura del dolore di spalla il trattamento della sindrome del tunnel carpale e nelle lombalgie ora il professor Lippi non mi ha di nuovo risposto sul discorso delle controindicazioni però da quanto ho capito diciamo così se non ha se viene fatta e non ha efficacia quantomeno non peggiora la situazione direi che la cosa principale è la diagnosi perché la diagnosi è la premessa è la premessa per poter fare bene tutto il resto indubbiamente controindicazioni effettive non ne ha nel senso è chiaro che come tutte le manovre riabilitative il dolore non dovrebbe esserci quindi anche questo il dolore acuto intendo un dolore infiammatorio quindi quello va trattato ad inizio dall'inizio qualche qualche attenzione va fatta a seconda della tipologia di paziente che abbiamo davanti anche l'età dipenderà ma la sede perché lei ha fatto un'altra domanda prima cosa può essere applicata la manovra la manovra può essere applicata al ginocchio come può essere applicata alla spalla alla schiena alla caviglia alle mani per il polso per l'appunto quindi la manovra ha una molteplicità di utilizzi quindi da questo punto di vista noi abbiamo la certezza di quello che facciamo certamente dobbiamo avere una diagnosi precisa una diagnosi corretta e soprattutto avere inquadrato bene il paziente un paziente che per esempio ha delle problematiche a livello della colonna che non sono chiare come può essere una frattura vertebrale beh allora lì noi ci dobbiamo interrogare questo per rimanere per rimanere nel concreto della nostra una domanda da spettatore che mi è venuta in mente adesso mentre parlava delle varie applicazioni mi ricordo la mia bimba quando era molto piccola forse tre anni aveva avuto un problema alla spalla forse aveva dormito con un braccio e accusava questo dolore portata in ospedale una dottoressa ha fatto una semplice manovra forse non era una manovra di rimaldi ma è bastata per sbloccarle la spalla potrebbe essere una sublussazione esatto diciamo ecco se magari avete avuto un'esperienza simile è una cosa molto più importante molto più amplificata ma che sfrutta forse dei concetti simili certo comunque tra le controindicazioni direi che in situazioni dove non c'è una diagnosi precisa può essere pericoloso ci può essere un dolore perché c'è un tumore c'è qualcosa quindi in questi casi chiaramente la manovra non è indicata ecco così come è importante che al fisioterapista arrivi una diagnosi medica precisa poi il fisioterapista deve fare la sua diagnosi funzionale deve fare la sua valutazione funzionale che è la prestazione più importante del fisioterapista in base alla quale inquadra il caso e decide su quale gruppo muscolare lavorare su cosa fare e come procedere nel percorso riabilitativo e se io posso sì lo so abbiamo pochissimi secondi l'ultima cosa allora dottoressa un secondo soltanto perché come ecografista mi sento di dirlo e siccome parliamo di stretti articolari un'ecografia ben fatta può essere sempre utile per il fisioterapista assolutamente per poter lavorare meglio non so che abbiamo fatto una puntata di Informa Salute tutta dedicata alle ecografie ma non c'ero io per parlare di ecografia avete parlato di tutte le ecografie ed è bravissima dottoressa ma c'era uno specialista comunque degli amici del cuore l'ultima domanda mentre mi suona il cellulare quindi credo che ci sia una domanda da casa però dottore leve a mano un libro ruberemo qualche secondo ci perdonerà la regia manuale degli esercizi che cos'è questo? allora questa è una pubblicazione recente che abbiamo fatto con l'associazione Luigi Grimaldi tra l'altro ci tengo a sottolineare che insomma cerca di portare avanti la ricerca l'associazione anche acquistando delle tecnologie e mettendole a disposizione delle persone che stanno facendo ricerca sulla manovra è il caso anche ora di un laboratorio che lavora su Firenze e sta provando un dispositivo a disposizione dell'associazione ecco questa è una piccola monografia nella quale abbiamo riassunto alcuni degli esercizi più significativi quelli di più facile applicazione e che danno discreti risultati chiunque desideri provarlo con un piccolo contributo di 20 euro può essere acquistata direttamente dalla casa editrice tra l'altro una casa editrice lucchese che la comincia e tra l'altro ecco va soltanto all'associazione nessuno di noi fa alcun beneficio dalla ascoltate io ho l'ultimissima domanda poi devo davvero chiudere che sono le 14 e 31 uno spettatore gli rispondiamo dice ultimamente ho dei dolori alle gambe mi hanno diagnosticato la spondivite anchilosante potrebbe essere utilizzata? beh sulla spondivite bisogna valutare bisogna valutare una bella diagnosi una diagnosi e poi soprattutto capire bene che tipo di problema ha le gambe questo signore se posso anche la società medico-chirurgica lucchese si è occupata della manovra Grimaldi se ne occupa sempre tra l'altro si è congratulata con l'associazione Grimaldi per aver potuto finanziare una borsa per chi ha frequentato per uno studente che frequenta il corso di perfezionamento un finanziamento donato da una famiglia che ha giovato ha visto un beneficio diretto personale nella propria qualità della vita operato dalla manovra Grimaldi e sul nostro trimestrale quadrimestrale c'è un articolo dedicato proprio alla manovra Grimaldi scritto proprio dal professor Paolo Lippi grazie davvero mi dispiace come dicevo potremmo parlarne ancora per molto tempo grazie a voi per averci seguito ma ringrazio il professor Paolo Lippi la dottoressa Daniela Melchiore grazie e buono il proseguimento grazie a voi per averci seguito ci troviamo fra sette giorni buon proseguimento